Come in un film un po' fellignano e unirico il nostro mini sondaggio per le vie di Pescara e dintorni. Si vota, come sappiamo, negli Stati Uniti e allora la domanda ai cittadini, Trump o Kamala? E in vista della nuova o grande Pescara che vedrà la nascita di questa realtà, un sindaco alla Trump o alla Kamala Harris? Risposta in libertà davanti alla telecamera di Diego Martelli. One question please. Guardi che sono italiano io. Ah, are you Italian? Eh. Are you Italian? Lei di dove è? Italiano. Ah, meno male. Lei sa che si vota negli Stati Uniti? Eh, e beh? Trump o Kamala? Kamala. Perché? Perché sì. Ecco, mi lascia così. Guarda, a me non mi piacciono nessuno dei due, se devo essere onesto. Perché? Perché, una cosa personale. Non lo capisco, hai. Ciao, in americano. Io non sono italiano, purtroppo non... Sì, purtroppo per fortuna. Le chiedo, Trump o Harris? Per me è Trump. Perché? Perché mi sembra più coerente con le sue idee. Scegliamo a casa nostra. Si voterà per la nuova o grande Pescara o quello che sarà? Lei vorrebbe un sindaco alla Trump o alla Kamala? Alla Trump. Cosa dovrebbe fare? Qualcosa per il popolo. È un bello scontro. È un bello scontro perché non le piace nessuno dei due. Esatto. Propendo più per la parte di Trump. Un sindaco serio che sappia rispondere alle esigenze della cittadinanza, eccetera. Insomma, vai bene, Pescara è bella. Ci serve uno che la sappia conservare in maniera bella. Quindi alla Trump o alla Kamala? Questo me lo può dire. Sempre ovviamente alla Trump. Essendo donna, una donna, quindi non Trump. Kamala. Perché? Non so, mi piace il modo che ha di fare. Tutto là. E di Trump che pensa? Non mi piace come persona. Due mondi completamente distinti, però, si vota per la nuova Pescara. Lei vorrebbe un sindaco alla Trump o alla Kamala? Io vorrei un sindaco che si occupasse della città di Pescara al 100%, così come gli assessori. Perché questa, cara signorina, era la città giardino una volta, quando io ero ragazzo. La gente la sera ha paura di uscire e una volta invece non era così. Alla Trump. Trump. Perché? Beh, perché è più all'avanguardia. Direi più Trump. Perché? Perché è sempre un tipo più deciso, sa quello che vuole e poi non offende troppo, come quella signora. Facciamo un gioco. Lei sa che si voterà anche per la nuova Pescara o grande Pescara. Lei vorrebbe un sindaco alla Kamala o alla Trump? Beh, vorrei un sindaco deciso, che sa quello che vuole, però capace di correggere, in casa si accorge che sta sbagliando. Io non Trump. Perché? Perché a quell'età devono andare a giocare a bocce. No, io vorrei un sindaco che fosse attento a quelle che sono veramente le necessità dei cittadini. E non lo corrisponde né con uno né con l'altro. Alla Trump. Uno che si faccia rispettare, che bisogna rispettare le regole e le leggi che ci sono. E chi potrebbe essere come Trump? Non lo so, non conosco, non sono addentrato in queste storie. Invece lei lo sa, ma non me lo vuole dire. Eh, lo vedi? No. Va bene, buona giornata.